Il ristorante La Cicala è situato sulle rive del Ruscello Draganziolo, un luogo molto grazioso e affascinante, al confine tra le province di Padova, Venezia e Treviso. Se cercate un ristorante incantevole, dove organizzare il ricevimento delle vostre splendide nozze, questa struttura è l'ideale per voi. Il ristorante La Cicala dispone di ampi spazi dove poter allestire il banchetto del vostro matrimonio. Vi offre infatti una luminosa sala ricevimenti caratterizzata da un arredamento elegante e da allestimenti ricercati e uno splendido giardino con piscina, perfetto per trascorrere piacevoli momenti all'aria aperta. I suggestivi ambienti del ristorante, inoltre, sono lo scenario ideale per gli sposi che desiderano celebrare in loco la cerimonia di nozze anche con rito civile. Lo staff del ristorante La Cicala è a vostra completa disposizione per esaudire tutti i vostri desideri e per assicurarvi di trascorrere una splendida giornata insieme ai vostri cari. La sua passione e la sua professionalità renderanno il vostro momento indimenticabile con un tocco di eleganza e classe. A tavola troverete solo i piatti preparati con grandissima cura e utilizzando esclusivamente ingredienti freschi e genuini. Il menù proposto appartiene alla cucina tradizionale e potrà essere a base di carne e di pesce e comportate personalizzate per gli eventuali ospiti vegetariani, vegani o celiaci. Seguiti fin dal primo incontro e coccolati per tutta la durata del ricevimento, presso il ristorante La Cicala vivrete una giornata da favola. Grazie a tutti.